La street photography per me è un modo di osservare il mondo, un modo di documentarlo attraverso le mie immagini e quello che cerco di fare ogni giorno è vivere la vita in un modo che mi permetta di fare la fotografia che voglio. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!